Anticipo di lusso per la ventitresima giornata nel gironea di eccellenza al comunale la caronnese ospita la capolista Pavia. Pronti via la caronnese trova subito il gol, bellissima triangolazione tra Corno e Brignoli, palla di ritorno per il capitano che davanti a Cincilla non sbaglia, settima rete in campionato per l'uomo simbolo dei rosso blu e caronnese avanti dopo soli sei minuti di gioco indirizzando subito il match. Pavia in realtà anonimo nel primo tempo i blu giocano più accorti ma di fatto non si rendono mai pericolosi dalle parti di Paloschi mentre la caronnese va sulle ali dell'entusiasmo e Sant'Agostino sfiora il bis ma Cincilla para sulla linea. Nel finale di frazione squillo da parte di Breidic su cross di Spanesci ma Paloschi è attento sul numero 10 dall'altra parte ancora un 1-2 di Corno con Brignoli ma stavolta il tiro del capitano finisce alto. L'occasionissima per il raddoppio capita ancora a Corno in avvio di ripresa lancia ispirare la corsa del numero 10 che però non riesce a concludere permettendo il ritorno di Diraco che salva il Pavia. Civeriati lancia nella mischia Panigada prima poi Vassallo e Agello i nuovi entrati cambiano il volto degli ospiti piattone di Spanesci debole per Paloschi poi altro brivido però per degli ospiti errore di alletto Morlandi recupera il pallone si invola verso la porta ma il tiro del centrocampista trova l'opposizione coi piedi di Cincilla. Gol sbagliato gol subito da una punizione di Spanesci arriva il gol sporco di Antenucci e il numero 9 a toccare per ultimo il pallone segnando così la rete numero 13 in campionato. Esulta giustamente il numero 9 e la caronnese reagisce ma sulla sponda di Pucca nessuno riesce a girare il pallone verso la porta avversaria. L'occasionissima da gol ce l'ha il Pavia Antenucci solo davanti al portiere però non trova il piattone vincente mandando clamorosamente a lato. La caronnese tira un sospiro di sollievo ma il paviere sta in attacco anche se la partita è bellissima e piena di colpi di scena da una parte e dall'altra. La caronnese troverebbe il gol con Migliavacca ma il numero 9 in offside sul cross di Morlandi e la gioia viene fermata dalla bandierina alta dell'assistente. Migliavacca vuole a tutti i costi il gol ma sul colpo di testa dell'attaccante Cincilla dice no mettendo in mostra riflessi da campione. Ancora il numero 9 della caronnese protagonista ma sul movimento da bomber si alza ancora una volta inesorabile la bandierina del primo assistente con più di un dubbio. A trovare il vantaggio così è il Pavia cross di Agello dalla destra e colpo di testa vincente di Vassallo che incorna il vantaggio biancoblu. Quinto gol in sei partite per l'attaccante che ha avuto un impatto devastante su un Pavia avanti a sei minuti dal novantesimo. Sembra fatta ma la caronnese ha sette vite e nel finale troverà il pareggio. Prima Matteo non riesce ad impattare bene il pallone poi al secondo minuto di recupero arriva la giocata di Lorusso che porta successivamente al cross dalla sinistra. Napoli Cincilla dice no a Pucca ma non può nulla sulla ribattuta di Migliavacca che ribadisce in rete il pallone del 2 a 2. Comunale in estasi sul gol del numero 9 tifosi del Pavia mutoliti. Migliavacca dopo gli errori di Sobbiate Arno si prende la sua rivincita personale. Al comunale finisce 2 a 2 per quanto visto in campo un pareggio tutto sommato giusto.